La situazione dei contagi è in forte miglioramento, siamo passati da un trend di circa 200 casi in media al giorno, c'è stata una forte riduzione e adesso siamo nelle ultime due settimane a una media di 100 casi al giorno. Il trend tra l'altro si conferma in riduzione anche nei primi giorni di questa settimana. Questa situazione naturalmente ha comportato anche una minore pressione sulle strutture ospedaliere e sui ricoveri. Anche questo naturalmente comporta una riduzione dei contatti stretti e quindi una minore richiesta di tamponi da parte del servizio di igiene e sanità pubblica. In generale quindi anche essendoci meno persone sintomatiche, anche nei covid point si è assistito a una riduzione del numero di tamponi effettuati. Adesso in effetti rispetto ai mesi precedenti dove avevamo, assistevamo anche a delle code, adesso sostanzialmente una persona riesce in questo momento ad arrivare con un'attesa minima di tempo per l'esecuzione del tampone. La campagna di vaccinazione da sabato ha subito un rallentamento perché con la notizia dei problemi della fornitura del Pfizer abbiamo dovuto sabato pomeriggio rivedere completamente la programmazione. Noi stavamo completando il personale sanitario dell'azienda, gli ospiti delle case di riposo, per fortuna le abbiamo terminate tutte e stavamo partendo con le strutture private accreditate, con gli operatori tipo Rizzola, tipo San Biagio, che sono sempre il personale sanitario. La notizia che c'è stato questo aspetto, abbiamo dovuto completamente rivedere la nostra programmazione, abbiamo sospeso le nuove dosi e ci stiamo concentrando, finché non avremo le forniture certe, nelle tempistiche e nelle quantità, essenzialmente sui richiami sulla somministrazione della seconda dose a chi ha già ricevuto la prima. Oggi al presidio ospedaliero di Jesolo partiremo con il richiamo ai primi 44 medici che operano nel Covid Hospital, medici personale infermieristico, personale delle USCA, che il 27 dicembre hanno fatto la prima dose.